Al via la prima edizione del Festival delle Buone Pratiche del Welfare Locale, un evento promosso e organizzato dall'assessorato regionale Welfare Anci Puglia, finalizzato a dare spazio a rilievo alle buone pratiche diffuse e implementate dai territori per valorizzare gli sforzi messi in campo dei comuni pugliesi con innovatività, creatività e desiderio di problem solving. Regione Anci hanno avviato la raccolta e la sistematizzazione delle buone prassi, individuate grazie ad un apposito avviso pubblico regionale tra i comuni della provincia di Foggia, anche Cerignola e San Severo. Le 21 schede progettuali selezionate illustrano attrettante iniziative di grande interesse e rilevanza per il territorio, tutte rientranti nell'ambito dei servizi e progetti di welfare locale con riferimento al cambiamento dei processi organizzativi e alle modalità di erogazione dei servizi, ottimizzazione dell'uso delle risorse umane e materiali per ottenere maggiore efficienza. L'evento odierno è stata una importante occasione per dare voce ai comuni che hanno realizzato la buona pratica così da condividere i contenuti, i risultati conseguiti, gli ostacoli superati, lo spazio di miglioramento e la possibile replicabilità. La parola del giorno è contaminazione, cioè in qualche modo credo che dando vita a questo festival delle buone pratiche nell'ambito del welfare riusciremo a creare quel rapporto di rete reale e quella possibilità veramente di condividere quelle che sono le buone pratiche messe in campo. Sono 21 le azioni e le attività in qualche modo selezionate tra i comuni, tutto questo grazie a una visione che ha voluto avere per la prima volta l'assessorato al welfare, quello di creare veramente un avviso pubblico. Grazie a tutti.